Dopo la salvezza rocambolesca del play-out con la Recanatese, il presidente della Vispesero Mauro Bosco ha tenuto oggi la conferenza stampa di fine anno allo Stadio Benelli con sguardo al futuro, a ciò che si è fatto e ai requisiti per poter ancora migliorare. A cominciare dal propulsore di unità che ha dato l'ultima partita con la Recanatese. Quell'episodio, quella partita ci ha dato qualcosa in più, in termini di unità, di intenti e di visione ci rende tutti quanti più uniti. Nonostante tutto, nonostante dei momenti bui dove sembrava che quasi andasse tutto male, sembrava quasi che il destino non ci volesse far rimanere nella categoria, ciò nonostante tutti erano ancora lì a tifare, ad applaudire, a incitare la squadra e questo secondo me è stato importante. Se fossimo stati nello stesso ambiente in cui ci trovavamo l'anno scorso, secondo me non sarebbe andato allo stesso modo. Quest'anno è andata bene perché tutti eravamo uniti e quindi mi sento di ringraziare la città ma soprattutto i tifosi. Lo sguardo a breve termine per il 2024-2025 parte dalla riconferma di Stellone. Sarà ancora lui il timoniere della squadra a partire dal ritiro che dopo l'esperienza in Trentino tornerà dal 15 luglio in una dimensione di prossimità più locale, molto probabilmente a Villa Grande di Montecopiolo. A Sodato, un accordo biennale con Stellone si va verso un contratto ancora più lungo. Stiamo cercando di consolidare ancora ulteriormente il rapporto con i mister e con il suo staff. Quindi l'obiettivo è reciproco perché perciò ci siamo piaciuti, quindi c'è interesse anche da parte dei mister nel starci vicino, nel proseguire il progetto di Spesaro. Quindi avendo questo obiettivo congiunto ci stiamo lavorando per prolungare ulteriormente i due anni di contratto in modo tale da stabilizzare il problema mister con lo staff. Continuità tecnica e societaria con Bosco che entra nel sesto anno di presidenza con promesse di rinnovato impegno. Per fare qualcosa di migliore io per primo ci metterò tutto quello che posso mettere in campo, quindi ci metterò competenza, ci metterò cuore, passione, penso di averlo dimostrato, e soldi perché ovviamente sapete tutti che mantenere questa categoria è difficile insomma e richiede investimenti economici importanti da parte mia. E io li rinnoverò, quindi il mio cuore, la mia passione, la mia competenza e i soldi ci saranno anche per la prossima stagione. Detto questo però ciò non basta, se noi vogliamo fare qualcosa di importante, vogliamo migliorare in modo notevole, tutti devono contribuire, non basta io, non basta la squadra ma dobbiamo contribuire tutti quanti. Impegno di tutti che significa un appello ulteriore alla tifoseria a cominciare da una campagna abbonamenti importante, passando per l'amministrazione comunale e soprattutto per l'imprenditoria pesarese. In termini statistici rispetto agli altri club professionistici siamo sempre una delle squadre che ha meno sponsorizzazione in tutta la Lega Pro. Gli imprenditori vicini alla Vespesano sono sempre pochi. I motivi forse li conosciamo, sono storici, sono congeniti, però al di là delle motivazioni, anche qui dobbiamo andare un attimo oltre. Io credo che sia arrivato il momento anche per degli imprenditori di avvicinarsi alla Vespesano, perché innanzitutto per un fatto di visibilità, la Vespesano oggi, anche per la prossima stagione, sarà su Sky. È arrivato il momento da parte degli imprenditori di avvicinarsi di più alla realtà Vespesano. È una cosa che noi non vediamo ancora come vorremmo, da questo punto di vista va fatto ancora tanto. E la cosa più strana è che si avvicinano gli imprenditori che vengono da altri territori. Cominciamo a chiudere sponsorizzazioni con tante sponsorizzazioni con realtà non pesaresi, addirittura non marchigiane. Insomma, c'è l'intenzione di continuare a crescere, ma con i piedi per terra di chi non si aspetta una rivoluzione da un anno all'altro. C'è bisogno di tempo, c'è bisogno, come lo dicevo prima, del contributo di tutti. La stessa amministrazione, anche la città deve credere in modo importante nel progetto calcio. Frosinone era una città che masticava calcio, dove si parlava di calcio, e quindi venivano anche rispettate delle esigenze calcistiche. Era un interlocutore ascoltato. Noi oggi non siamo, lo sapete meglio di me, non siamo la realtà ascoltata dall'amministrazione che ci sediamo e insieme ragioniamo di progettualità. Si cerca di fare qualcosa, si cerca di migliorare, si cerca di, pian piano, di investire qualcosina. Però è questa pesa, lo dovete sapere anche voi. Non c'è la rivoluzione. Non è che stiamo progettando per X milioni di euro uno stadio nuovo. Avete sentito anche dichiarazioni dei politici. Non c'è nulla di tutto questo.